Yet another e-talk, cerco di attirare un po' l'attenzione con anche un pelo di ironia, quindi partiremo dalle buzzword. Vi faccio partecipare e vi rompo subito le scatole. Ecco qui una piccola lista di buzzword. Tantissimi di sicuro avranno sentito parlare di chat GPT, anzi sospetto tutti, qualcuno avrà sentito parlare di Claude, ma se qualcuno riesce a identificare tutti gli acronimi di buzzword di cui si riempiono la bocca tantissimi negli ultimi anni, miei complimenti perché alcuni di questi nonostante li abbia scritti io qualche ora fa già non mi ricordo più che cavolo è l'acronimo. Me lo potete chiedere dopo, eventualmente lo riesco a ricostruire. E' esploso, è esploso tutto, è esploso tutto grazie a OpenAI, ma in realtà di intelligenza artificiale si parla da 60 anni e in realtà bisognerebbe parlare di NLP, quindi Natural Language Processing. Qualcuno addirittura ha usato negli ultimi anni chiamarlo Natural Language Understanding, NLU, come se le macchine davvero capissero. Non è così, va bene. Giusto per usare due parole tecniche è un sistema di interpolazione. Per chi matematicamente non sa che cos'è l'interpolazione è una cosa che il nostro cervello fa senza alcun problema. Vedete una lista di punti, sapete più o meno qual è la retta che passa vicino a tutti. Vedete una serie di pallini in giro, soprattutto se siete semi-autistici come me cercherete di capire qual è il pattern. Ok, non è nient'altro che questo, questa è l'intelligenza artificiale. Poi ci riempiamo di tutte queste parole dall'Explainable, Artificial Intelligence, Machine Learning, Tokenizer, Artificial Neural Network, eccetera, eccetera, tanti altri. Diciamo, qualcuno di voi riesce ad arrivare almeno a sette? Vengo lì e gli do un abbraccio. Ok, gioco perso. Dai, diventiamo serie, proviamo un attimino a parlarne seriamente. Qualcuno mi ha detto che vanno molto a... Dov'è che devo mettere la mano? Ok, funzioni. Vanno molto i talk camminati, quindi vi farò venire un po' di mal di mare, soprattutto a chi guarda. No, mi dicono dalla regia. Ok, mi metto qui, provo a guardare un po' la camera e un po' di qua. Allora, parliamo tanto di intelligenza artificiale, parliamo tanto di NLP, ma in realtà, giusto una piccola nota per capire, l'avrete visto anche con Davide, avrete sentito parlare di modelli, avrete sentito parlare di servizi. Ok, parliamo di due concetti base. Il concetto di come questi modelli si creano, quindi partiamo da una serie di dati, utilizziamo un framework per fare del training e otteniamo un modello. Un modello non è nient'altro che un file, piccolo o gigantesco, anche giga, centinaia di giga, che è un file binario. Tecnicamente contiene delle matrici di floating point, ma ok, quello è un modello. Hai già preso dei dati, li hai già manipolati. Quello non è open. Ok, un modello non mi dice i dati, non posso di costruire da un modello i dati. In più, ci aggiungiamo un altro passaggio, devo farlo funzionare in qualche maniera quel modello, devo avere un interprete, qualcosa che quel modello mi permetta di interrogarlo, farlo funzionare. E allora ecco com'è che si usano. Ho preso un modello attraverso un framework, ce ne sono tantissimi, chiusi e aperti, ok, che ti permettono di avere dei servizi. Può essere un chatbot, può essere un API pubblicata, può essere uno script che fai girare da te, può essere un'app per mobile, ok, che ti ad esempio fa lo speech to text, quindi da il mio parlato crea del testo, ok. E quello è il modo di farlo funzionare. Abbiamo due grossi punti nei quali possiamo essere aperti o chiusi, possiamo capire come funziona. Con aperto io ho l'intenzione di usare il termine libero nel senso di poterlo studiare, poterlo aprire, poterlo conoscere all'interno, capire perché fa certe cose e di conseguenza anche capire come mai fa certi errori. Dopo arriviamo anche alle allucinazioni alla fine. Ok, e quindi ecco parliamo prima di tutto degli ecosistemi, quindi parliamo della seconda riga perché è più facile partire da questa. Questi sono tutti sistemi fortemente chiusi. OpenAI, quella di chat GPT, è totalmente chiusa. Non sappiamo nulla del loro framework, non sappiamo nulla del loro modello, non sappiamo men che minimamente nulla dei loro dati che hanno utilizzato. Su questo sapete che anche persino nei media di grossa distribuzione se ne parla tanto, su che cosa sono addestrate. Un'altra alternativa, vi consiglio di provarla, non è male, è Cloud di Anthropic. È un altro chat GPT. Per certi aspetti funziona meglio, per altri funziona peggio. Bisognerebbe arrivare a, questa sera è impossibile però, bisognerebbe arrivare a parlare di come si può fare una metrica su cos'è che funziona bene. Un altro più vecchio, ma in aggiornamento costante, IBM Watson, Coir, AI 21 Labs, ma ce ne sono tanti, qui vi ho riportato quelli dal più conosciuto a forse il meno conosciuto. Poi vi lascio le slide a tutti, sono piene di cavolate, ma spero almeno un minimo divertente. Le mando sulla chat di Telegram, lo do ai ragazzi, vi distribuiscono la presentazione. Però esistono anche dei servizi aperti, servizi che potete far girare anche da voi in locale. Non ne ho citato un paio, mi sono dimenticato creando qui. Il più famoso è sicuramente Olama, ve lo potete installare, siete degli sviluppatori, potete usarne l'API, non siete degli sviluppatori, c'è una GUI tramite la quale potete interrogare un LLM. GPT for all, local AI, e infine gli Aging Face Transformer, diciamo molto più dedicato ecco agli sviluppatori. Chi è che sa che cos'è Aging Face qui? Parliamo tanto di AI, però ecco scommetto che questo è un terzo della platea. Aging Face è il GitHub, è il repository dove si possono trovare dei modelli. Potete trovare dei modelli sia, vediamo veramente aperti, come vedremo dopo, sia modelli chiusi dentro Aging Face. Potete trovare anche i dataset. È uno dei grossi nomi, ecco, parlando di intelligenza artificiale. In realtà poi, rimanendo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ma parlando del Natural Language Processing, maledizione alle mie diti, ci sono anche tantissimi altri, Spacy, Langchain, FastAPI. Logical, che cito lì, poi al limite se qualcuno è interessato, è un progetto open di un amico. È praticamente come avere ChatGPT Enterprise come servizio proprio e non solo si può collegare a ChatGPT, si può collegare a dei modelli che pubblicate con Lama. Ha un sacco di cose, quindi è veramente open, React, pubblicato su GitHub. Spero di non pubblicizzarlo troppo perché lo stanno ancora sviluppando, mi potrebbe mandare a quel paese. Non gli ho mandato neanche il WhatsApp dicendo che ne avrei parlato. Però tutti questi sono servizi open, open anche a livello di open source. Li trovate in giro, sono anche gratuiti. Potete giocarci, potete capire come funzionano. Ma ricordiamoci che i servizi si basano su dei modelli. E quindi ritorniamo a che cosa sono i modelli chiusi. Cioè, cosa sono i modelli semi aperti, falsamente aperti, lo chiamo io. Questi sono modelli che non sono neanche disponibili. Non li trovate su Aging Face, non li trovate da nessuna parte. Non è disponibile scaricarsi quel file binario da nessuna parte. Non sappiamo come funziona, non sappiamo neanche se è uno o più modelli. Non ne sappiamo nulla. Le informazioni che ci arrivano sono praticamente zero. Ovviamente il primo e più grosso è sempre il gigante, l'elefante nella stanza, GPT. Non sappiamo nulla, letteralmente. Cloud, che vi ho nominato prima, provatelo, è pur sempre gratuito. Non è che dico che è il male in senso assoluto, però ha grossi limiti. è un altro dei problemi. Palm, Lambda sono progetti un po' più vecchi di Google e questo Megatron Touring di NVIDIA e Microsoft è stato un grosso passo avanti dal punto di vista dei risultati, però è rimasto chiuso, non ne hanno pubblicato assolutamente niente. Poi qualcuno che magari ne ha sentito parlare, qui perdonatemi, io ho messo anche un po' di ma quello che è, ma che è girato tantissimo su internet, dice attenzione non chiedere a una donna l'età, non chiedere a un uomo il salario o non chiedere a una donna il salario o a un uomo l'età e soprattutto non chiedere a una compagnia di intelligenza artificiale dove ha preso i suoi dati. Mai. Non lo sanno, probabilmente non lo sanno neanche loro, lo sanno un paio di ingegneri all'interno da dove veramente arrivano i dati. Qual era lo scraping, il motore che ha raccolto quei dati per addestrare l'intelligenza artificiale. E qui abbiamo dei modelli pubblicati su Aging Face, quindi se volete vi scaricate il modello ma non sapete dove sono i dati. Se quel modello a un certo punto risponde dicendo che è giusto distruggere l'umanità, voi non potrete andare sul dataset e capire qual è il pezzo di testo che ha permesso all'intelligenza artificiale di generare quella frase. Dov'è l'esempio che l'intelligenza artificiale ha imparato, perdonatemi il termine, è improprio parlando di intelligenza artificiale. Per dire queste cose, se non abbiamo il dataset, ritorniamo all'inizio, se non abbiamo il dataset che crea il modello tramite l'addestramento, io non posso sapere. Ho creato anni fa, neanche tanti, tre anni fa un'intelligenza artificiale in ambito psicologico per un cliente, l'ho creata da scratch e ogni qualvolta rispondevo a una cavolata a una persona ansiosa, ad esempio facevo una domanda molto introspettiva, molto personale e dovevo andare a vedere dove era nel dataset l'errore eventualmente cancellare quella frase e modificarla insieme agli psicologi. Se faccio un sistema di generazione immagini a un certo punto l'immagine all'interno mi rappresenta un bambino moribondo, devo capirlo, devo andare a vedere dov'è che ci può essere un'immagine similare che può aver generato questo. Se genero un'allucinazione, tipo dico che Garibaldi è nato nel 323 a.C., devo andare a capire da dove arriva tutto questo. Questo fa parte del lavoro di data scientist, io non lo sono, però senza i dati io uso un modello di questo tipo, uso magari Olama, un servizio open e uso Mixtral, giusto per citarne uno di questi. Mixtral mi risponde con non andare a votare. Sbagliato, non grave come altre cose che ho riportato, vorrei che dicessi che va a votare, devo riaddestrarlo, posso cambiare i dati per potergli cambiare il comportamento, non ce li ho. Quindi sono falsamente aperti, ti danno la convinzione di avere una cosa in mano e di poterla veramente modificare, manipolare, studiare, entrare nel suo core. E quindi da questo punto di vista si vede che tanta, tantissima AI, dalla più conosciuta a quella magari un po' di meno, ma i tecnici magari ne hanno sentito parlare di più di qualcuno di questi, non è veramente aperta. Arriviamo anche al punto un po' più positivo che qualcuna c'è aperta, ma sono poche. Vediamo che OpenAI, ok, era più o meno aperta, è quella peggiore qui. Ha un dataset non pubblicato, però almeno è descritto. Dicono che cosa contiene, danno delle percentuali su frasi di alcuni tipi e questo parliamo di GPT2 2018-2019, quindi tanto tempo fa. Poi hanno cambiato completamente rotta, GPT3 già era chiuso completamente. Però Google, dai, qualcosina ci ha messo d'impegno, ha fatto T5 e T5 effettivamente è addestrato su un dataset pubblico ben conosciuto, disponibile su AGameFace, in cui posso vedere quali sono tutte le frasi utilizzate, i testi utilizzati per l'addestramento. Quindi dai, già c'è qualcosa. Salesforce, montagna di soldi, azienda che dico, secondo me, si è intrufolata nel mercato in una maniera allucinante negli ultimi anni ed è veramente piena di soldi, almeno non te lo rilascia gratis, ma se sei un suo cliente e lo richiedi, ti rilascia il dataset. Quindi puoi sapere perché magari dice delle cazzate, perdonatemi i termini, però lo puoi sapere. Sempre Google più in passato, ok, Aska ha prodotto XLNet, anche questo ha una descrizione molto dettagliata e anche una parte del dataset, ma circa il 70% dei dati, mica tutto. E infine c'è Bert e tutti i suoi derivati, Bert, Roberta e tanti altri, da Facebook in poi, vabbè, ok, è addestratto su dati pubblicamente disponibili. Quindi dice, ok, io ho usato questo dataset di qua, questo di qua, questo di qua, ma te li deve andare a recuperare te. Vabbè, dai, c'è, mi stai rompendo le scatole, ma almeno riesco a ricostruire qualcosa. Cerco di stare nei tempi, quindi controllo anche questo. Quindi, attenzione, bella, bella la io, ne sono molto appassionato, la prima volta che l'ho studiata era il 2001, quando ero all'università, Neural Network, era una cosa che mi ha aperto completamente il cervello, ho detto, cavolo, invece della tipica precisione degli algoritmi si può avere un sistema di inferenza non precisissimo che magari può generare, può riconoscere cose che non sono precise. La prima implementazione sono stati gli OCR, noi a mano non scriviamo, OCR servono per prendere la scrittura a mano e trascriverla in testo. Noi non scriviamo mica tutti uguale, quindi con un algoritmo standard fare un OCR era molto complesso, per quanto ci siano riusciti. Ecco, bello, strafigo, e dopodiché di improvviso di nuovo buio per tanti anni, 2015, Paper che ha creato l'idea dei Transformer, non i giocattoli, e torniamo alla mia infanzia, e da lì pian pianino poi è arrivato il grande pubblico ed è arrivato ChatGPT. Infine, tutti ai pensate ChatGPT. Sto cavolo. Grazie Davide, che non so dove sia, che porti Stable Diffusion e Olama nei labs, perché la gente ha bisogno di conoscere che c'è anche altra intelligenza artificiale. E tra l'altro ce n'è anche tanta altra che non è legata all'NLP. Giusto così, piccolo excursus. Stable Diffusion, il sistema di generazione per le immagini che avete visto utilizzare da Davide, su cui ci sono stati i lab, è comunque NLP, è comunque processamento del linguaggio naturale. Voi scrivete qualcosa, lo deve capire, e poi genera un'immagine. Altrettanto i sistemi di generazione dell'audio sulla base del testo sono venuti fuori anche servizi come audio, scusate, come completamente chiusi, ce ne sono anche di aperti. Su Aging Face ci sono i modelli per generare la musica basata sul testo. È comunque tutta NLP, ma c'è tanto altro, c'è tantissimo altro. Sistemi di forecasting, sistemi di inferenza per la divisione dei dati, capire che cosa è buono, che cosa non è buono in una serie di testi che magari devono essere poi inseriti in un database, devono essere esclusi i testi offensivi, i testi di altro tipo. AI aiuta, indubbiamente. Però ha anche il suo incontro. Il suo incontro, dato che noi siamo qui per fare cose per i cavoli nostri, do it yourself, e per hackerare, aprire, capire cosa c'è dentro, attenzione a che cosa utilizziamo, cerchiamo di capire veramente, devo usare OpenAI, io ci lavoro anche con queste cose, la userò, posso utilizzare qualcosa di meglio, magari uso Olama con un modello Open, oppure sono pieno di soldi, o il mio cliente è pieno di soldi, me ne creo uno io. Qui si va anche su un problema di inquinamento, la creazione di queste reti molte volte costa tantissimo dal punto di vista energetico e di conseguenza inquina tantissimo. E quindi arriviamo verso la fine, cioè le implicazioni etiche, quello con il quale mi piacerebbe discutere con voi, eventualmente anche post, oppure fate delle domande, maledizione ai miei diti, e mi fate delle domande perché ce ne sono tante di implicazioni etiche. Ho parlato prima delle allucinazioni, i bias, 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 va bene, cioè quello che può dire di errato, ok? Questo non è solo un errore tecnico, è una cosa che data la diffusione che ha l'AI diventa anche un problema etico e di utilizzo. Se dice una cavolata, se crea una falsa prospettiva, una falsa idea su qualcosa e la consolida, può diventare un problema sociale, i problemi legati alla privacy. Se io non so su che cosa sono stati addestrati questi modelli, non so mica se ci sono miei dati personali. Esistono dei meccanismi, cominciano a introdurli, anche degli bravissimi hacker sono riusciti a far dire ai modelli una parte dei dati, a capire se un nome di persona proprio, ad esempio, è stato inserito all'interno del dataset, se ne sa qualcosa? Può essere che la mia privacy sia stata violata magari anche pesantemente? Niente esclude che nello scraping, nella raccolta dati, queste grosse società possono aver raccolto dati che erano veramente privati. Tu puoi anche mettere un disclaimer sul tuo sito, attenzione, questi dati non possono essere utilizzati in nessun modo se non essere visualizzati, ma quando passa uno scraper, quando passa un programma, raccoglie tutto, lo inserisce in un dataset e poi il dataset va in mano all'AI e loro se ne fregano proprio perché riconoscere quali dati sono stati utilizzati è difficilissimo. Quindi, attenzione, quello è un grossissimo tema. Poi l'uso improprio degli LLM, fake news, disinformazione, deepfake, lo abbiamo visto tutti, tutti i giornali ne parlano, però in realtà magari in maniera impropria, ma almeno che la gente sappia che si può fare quello, almeno un po' ti mette sul chi va là. E infine la trasparenza e la spiegabilità, su questo stanno lavorando moltissimi ricercatori stanno lavorando sull'ultimo tema, cioè riuscire a capire perché un modello dà un certo risultato. Spiegami il perché. Dimmi come mai hai dato questo risultato. Explainability, spiegazione, ok? E trasparenza. Trasparenza cercano di ricostruirla dato che le grandi società non lo fanno per conto loro pubblicando i dataset, hackerando i modelli e cercando dai modelli tirar fuori i dati. È difficilissimo. È un po', parlo per i programmatori, so che non lo siamo tutti qui dentro, ma ce ne sono tanti, è un po' come decompilare un software compilato. Non ottieni il codice sorgente, ottieni almeno delle informazioni, però è già qualcosa, è già meglio della tuttura totale, oscurità nella quale viaggiamo in questo momento. Attenzione, fate attenzione. Dai, volevo tenere un tono un po' più ironico, però mi sono reso conto che è importante che ne siate un po' consapevoli. Quindi, dai che abbiamo finito, torniamo al tono ironico. Ponetemi le domande, intanto ve ne faccio una io. Mi avete seguito? Siete riusciti a capirmi? Dove vi ho perso? Nell'eventualità rompetemi le scatole dopo, ma soprattutto cos'è quella teiera? Magari citazione per molti, ma non per tutti. Cos'è il senso di tutto quanto? Eh, questa magari è ancora per tutti. Oppure, dove è finita la supposta rossa? E qua mi sa che i giovani tra la pillola blu e la supposta rossa non sanno la differenza e l'ironia. Infine, vi posso dire anche che questa è una piccola citazione di un amico. La risposta a qualunque domanda appartiene sempre all'insieme degli alcolici. Birra, vino, grappa, rum. Su questo mi bevo la mia birra. E di fatti, uno dei dialoghi migliori partorito dalla mia mente malata è, come ti chiami? Birra Doppio Malto. Doppio è il secondo nome, Malto è il cognome. E da dove vieni? Beh, dal Monte Grappa. Bene, grazie. Qui ci sono i miei contatti, rompetemi le scatole. Una. Posso andare avanti? Sì. Ok. Ormai abbiamo capito che nonostante OpenAI continui a dire che loro sono vicini al generale AI, Doomsday Machine. Abbiamo capito che è sostanzialmente una fuffata. Esatto. Il tema di AI Safety. È chiaro che comunque qualcosa c'è da fare. Su che cosa si concentra AI Safety? Cioè, su cosa ci si deve concentrare? Allora, secondo me il tema probabilmente più vicino, tra l'altro GPT-O1 è un tentativo, è l'explanability. È un tentativo molto marchettaro, molto inutile dal punto di vista veramente di succo. Ok? Però spiegare a come raggiunge un risultato, quella è la prima cosa. Perché nel momento in cui la gente, parlo anche dei molto tecnici, non qui proprio della gente comune, però comincia a capire che c'è un ragionamento dietro, c'è un dataset, ci sono dei dati e c'è una modalità per arrivare da quei dati a quel risultato, ok? Comincerà a chiedere sempre di più. Ok, ho bisogno di vedere i dati, ho bisogno di vedere il sorgente. Come posso sapere che questa cosa è sicura se io non ti vedo il sorgente dell'applicativo? Quello è il primo. È uno step che è anche psicologico. Cioè, fatto quello, diventerà più naturale avere i dati a disposizione. È un po' come all'inizio, è un po' come quando Stallman si ritrova per la prima volta il driver della stampante compilato e non può modificarlo. Spero che quasi tutti, e se non l'avete fatto, leggetevi Free as in Freedom. È un libro sulla vita di Stallman. Stallman è partito col progetto GNU perché una stampante dava problemi. Lui era abituato a mettere mano ai driver della stampante e modificarli. Voleva far sì che quando c'è un problema alla stampante venga mandato una mail a tutte le persone che hanno la stampa in coda. Cosa succede? Che almeno qualcuno sa come sistemare la stampante. È suo interesse sistemarla perché prima o poi stampi le sue cose. Qualcuno si alzerà il culo dalla sedia e andrà a sistemarla. Ed improvviso ho trovato che quel driver non ha il codice sorgente. Da lì è partita tutta. Da lì ha deciso, ok, adesso ho bisogno di fare un progetto perché il software sia aperto, non gratuito, no, free as a beer, free as in freedom, libero. Posso studiarlo, posso capirlo. Lì è partito tutto. Se noi abbiamo l'explanability sarà il primo punto in cui la gente comincerà a dire ho bisogno di quei cavolo di dati. Perché mi ha suggerito di bere varechina, la i, ok? Perché? E ti dirà perché è consigliato da questo? Perché c'è all'interno di questa discussione su Reddit. Perfetto. Perché hai Reddit? Allora mi dai il dataset che dice che tu hai screpato, hai tirato giù i dati da Reddit, ok? Ecco, bene. Questo è un primo punto secondo me per la sicurezza. E poi secondo me l'altro punto è non avere un mega oracolo, non avere chat GPT che ti risponde a tutto, avere tanti piccoli oracoli per i programmatori. Vi consiglio di provare LamaCode. Provate con Olama, LamaCode in locale da voi. Il vostro IDE che si interfaccia con chat GPT o con GitHub Copilot per scrivere codice, si può collegare tranquillamente a Olama perché le API sono le stesse. LamaCode è open, magari sarà un po' più lento, magari su alcune cose sarà un po' meno preciso, ma è già un ottimo strumento. E se poi avete qualcuno di nerd con una bella macchina tipo me o Davide, eventualmente ve lo ricastomizzate e ve lo addestrate su un linguaggio specifico, su una tipologia specifica, magari sulla vostra codebase che è nascosta in un hard disk nel vostro cassettino. Io mi aggiungo a una domanda, ma prima volevo aggiungere alla domanda che è stata fatta a te, oltre all'explainability, l'accountability, ovvero io ho bisogno di capire la chain of truth che ha portato a questa risposta per capire se ha un senso. E poi vorrei sapere anche da quale fonte tu hai dato questa risposta, quindi se anche la parte di chain of truth che tu hai avuto era affidabile oppure se veniva da Reddit piuttosto che da qualche altra fonte. Per cui ci sono in realtà sette problemi in questo momento aperti, Francesca Rossi è una ricercatrice dell'IBM che lavora proprio su questo tipo di problemi, ha scritto anche dei libri dove si parla un po' di quelli che sono i temi aperti adesso sulla AI e sulla quale stanno convergendo, come veniva detto un attimo fa, O1 converge, inizia a spiegarti un po' la chain of truth che ha seguito per darti la risposta e quindi si inizia ad andare anche nella direzione di fixare non solamente l'effetto wow ma dare un po' più di credibilità a quello che sono i modelli. La mia domanda invece era questa qui. Prima un attimo, grazie Davide perché in realtà io ogni tanto mischio anche i termini e faccio un po' di confusione quindi grazie. Ok, prego. Se io dovessi chiedere alla AI è corretto quando io entro a casa di un amico togliermi le scarpe? Non c'è una domanda corretta universale perché dipende dal contesto, per cui in realtà avrà un bias nel modello, probabilmente ci sarà sempre, non avremo il modello definitivo che sarà universalmente portatore di risposta sempre corretta. Per cui dovremmo imparare a convivere col fatto che avrà sempre, anche se lo facessero persone che hanno scelto il dataset, comunque quel dataset avrà comunque delle risposte che non sono la risposta e dovremmo iniziare anche a pensare un po' a come gestire questo tipo di bias che ci sarà nei modelli di cui attualmente non c'è nemmeno un modo per categorizzarlo. Bene, non mi hai fatto una domanda ma mi hai aperto un tema molto interessante. Un assist. Eh sì, un assist. Allora, interessantissimo, però io ritorno su una frase che prima ho detto ma non è mia. Non crediamo mai a un oracolo, ok? Cioè, nessuno di questi sarà un oracolo, neanche l'enciclopedia britannica può essere considerata un oracolo. Non potrà rispondere a tutto e avrà degli errori, è sicuro. Dovremmo sapere come integrarci con l'AI, cioè togliamocelo dalla testa. Non dobbiamo aver paura di questo strumento, non dobbiamo pensare che sia la soluzione a tutto. È come quando è arrivato internet, sono arrivati gli smartphone, ok? Non è, non possiamo farne, ci saranno, ci saranno sempre, non possiamo farne a meno, però nello stesso tempo impariamo a usarlo con, conoscendone i limiti. E per conoscere i limiti bisogna anche conoscere i dataset, per conoscere veramente i limiti. Quindi ci saranno AI specifiche per qualcosa, ci daranno una mano per qualcosa, su altro ignoriamole e sempre nel processo di intelligenza artificiale, a mio parere, l'uomo prima e l'uomo alla fine. Quindi l'uomo prima vuol dire impariamo a usarla, impariamo a dare i giusti input alla AI, impariamo a creare i dataset correttamente, impariamo a analizzare i dataset. L'uomo alla fine, non prendiamolo come oro colato, cioè neanche se dicesse qualcosa Davide in questo momento io lo prenderei come oro colato, anzi probabilmente lo prenderei per il culo. Spero sia stata una risposta soddisfacente, che non sia stata solo una pippa mentale e quindi avanti con la prossima. Vieni qua, vieni qua. È acceso? Ma ciao, grazie. Allora grazie prima di tutto, mi è piaciuto tantissimo. Ci lavoro e non so tutti quegli acronimi, quindi anche quella è una cosa interessante. Allora riguardo i modelli open source e a cosa è disponibile, dati, non dati. Una novità, c'è un modello che si chiama Olmo di Allen AI, che dovrebbe essere completamente open. Però anche una cosa a enfatizzare il fatto di quanto in realtà anche avere dati a disposizione non aiuti al 100%, puoi dire qualcosa in più su quello che succede, ma c'è sempre il problema della replicabilità. Quindi anche a parità di dati, di modello, se non sai il processo con cui è stato trenato l'algoritmo, puoi finire con un modello che ha delle performance differenti e dei risultati. E anche se avessi tutto, devi avere le risorse per fare i training di quel modello, che è un'altra cosa, che rende la, diciamo, anche se in teoria una cosa è libera, è poco democratica perché la gente non la può riprodurre. È estremamente poco democratica. Grazie mille, ottimo spunto. Allora, vero, ok, vero. Allora, non è detto che avendo i dati uno risolve tutto. Stiamo cercando di democratizzarla, democraticizzarla. Stiamo cercando di aprire questa tecnologia, discutendo, tante persone discutono, negli Stati Uniti ci sono tanti think tank, diciamo, che parlano di questo. È un passo alla volta. Hai ragione tu, per arrivare alla fine dovrebbe essere anche più democratica. Ti do un'opinione mia che magari può essere completamente sbagliata. A mio parere, tra qualche anno non parleremo più di modelli così giganteschi. Questi sono serviti per marketing, per fare tanta pubblicità, tanti modelli che si creeranno dopo saranno molto ad hoc, molto più piccoli. Non dico che con 200 euro lo addestri, però diciamo con una cosa per cui anche una piccola comunità come può essere la nostra si può prendere una macchina e dire, boh, replichiamo, proviamo, creiamo un dataset. Magari una macchina da qualche migliaio di euro che qualcuno metta a disposizione, io o Davide, e un po' di lavoro di gente, qualche soldino di elettricità e si fa. Cioè, parlando proprio di costi che potremmo sostenere noi mettendo 10 euro a testa, ecco, una cosa di questo genere. Quindi sì, siamo nel momento di grande boom, siamo nel momento della preesplosione delle dot com. È quello il momento, sembra tutto tanto grande, poi vedremo dove andremo però. Sì, ecco, di quello so veramente poco. Prima hai parlato di come correggere comportamenti scorretti, allucinazioni, eccetera, andando a modificare il dataset. Si fa sempre così o si modifica anche il framework a volte? Allora, il framework è una cosa un po' più complessa. Il framework sono le formule matematiche che vengono utilizzate per interpretare, per utilizzare quelle matrici di floating point e ottenere dai vettori iniziali i risultati finali. I framework alla fin fine sono pochi e sono fortunatamente quasi tutti open source, tra l'altro, quello. Cito il più grande, TensorFlow, ok? Open source. Quindi in realtà sui framework è un po' come dire... Sei programmatore? Non so. Ok, un po'. È come dire, cambio il compilatore? Vabbè, ok, magari ti può cambiare qualche performance, ma non ti cambierà il risultato alla fin fine. Sì, si possono cambiare i dataset, si possono cambiare i prompt, si può cambiare l'infrastruttura di utilizzo, perché magari dentro l'infrastruttura... Qui citavo Langchain, ecco qui. Questo è un ottimo framework che si usa per costruire cose complesse sopra dei modelli. Dentro Langchain ci sono anche tanti prompt che non vedi, non è il prompt dell'utente, sono i prompt tecnici. Puoi anche cambiare quelli. Esiste anche una metodologia Retrival Augmented Generation o Augmented Generation, nella quale inietti del testo, tecnicamente si chiama embeddato, che effettuano degli embeddings, e tu lo inietti all'interno della domanda dell'utente, assieme alla domanda dell'utente, e con questo correggi e poi eventualmente limitare l'utilizzo della memoria del dataset. Poi ci sono tanti piccoli dettagli tecnici, non vorrei però rubare adesso tempo. Ce ne sono tanti altri. Quello era il metodo che si utilizzava prima e sarebbe il metodo più corretto, cioè vado alla sorgente e tolgo tutti i riferimenti al Cuckoo's Clan.